C'è un po' di tutto, ognuno ha la sua storia, c'è da dire anche che in Italia tante volte mancano gli strumenti anche per uscirne e che non è sempre la responsabilità è nostra nel continuare comunque questa vita, perché se noi grazie a Fabrizio abbiamo avuto questa possibilità e l'abbiamo colta, penso che tante altre persone se avessero le possibilità uscirebbero da questa realtà. Comunque c'è di tutto, c'è gente che la famiglia ce l'ha, gente che non ce l'ha, gente che ha famiglie che hanno rapporti conflittuali con la propria famiglia, ognuno ha la sua storia. Tu hai detto mia madre è morta nel filmato, hai detto mia madre non c'è più. Cosa intendi? Che non c'è davvero oppure che è morta dentro di te? No, i miei genitori sono morti davvero, da diversi anni e la mia tossicodipendenza insorta appunto molto a causa della morte di mia madre, perché c'ero molto legata e ne ho sofferto, comunque è morta giovane. Ma quanto hai iniziato la prima volta? Ma appunto come dicevo nel video, da ragazzina ho fatto le mie esperienze, però la mia tossicodipendenza è insorta nel momento che mia madre si è malata. Poi negli anni è stato un progredire verso questa strada ho peggiorato sempre di più e sono cambiata totalmente a causa delle sostanze e della mia sofferenza.